Almeno tre manifestanti sono rimasti uccisi in Siria. Secondo alcuni testimoni, le forze di sicurezza avrebbero aperto il fuoco per disperdere le migliaia di persone che si erano radunate ancora una volta per protestare contro il governo di Bashar al-Assad nella città meridionale di Deirah. Proteste si segnalano anche in altre città, incluse quelle orientali, dove in piazza sono scesi i curdi per chiedere riforme. Centinaia di giovani hanno voluto salutare quelli che hanno definito i martiri di Deirah.